Una gara in equilibrio, come se ne vedono tantissime nella categoria, credo che noi nel secondo tempo potevamo anche sfruttare la loro voglia di doversi scoprire magari, però sappiamo tutti come è andata, adesso è inutile tornare indietro, lo sapete non sono abituato a avere il controllo su cose che non possiamo controllare, noi qualcosa abbiamo sbagliato, dobbiamo lavorare su quello. Baroni, tornando al derby con Lanciano, che tipo di accoglienza si aspetta dai tifosi rossoneri? Io non mi aspetto mai niente nel calcio, io so quello che ho fatto, so la professionalità con cui io lavoro, ovunque vado, e quindi io in questo momento penso solamente alla mia squadra, a preparare anche se sono pochi giorni questa partita, che ripeto è importante. E invece per l'ennesima volta, come dall'inizio della stagione, lei sarà costretto a rinunciare a un lungo elenco di giocatori? Guardate, lo sapete, come ho detto prima degli alibi che non vado a cercare, noi siamo abituati a queste difficoltà, e quindi come ho detto ieri ragazzi, chi andrà in campo ha la fiducia mia, del gruppo, e quindi non ci sono nessun problema. Parliamo di chi c'è e non di chi non c'è. Sono le partite belle da giocare, perché nel calcio le partite più sono importanti, più sono difficili, più sono belle, per chi le vive dentro il campo e per chi le vive da fuori.